Ciao a tutti, io sono Valerio, io sono Luisa, noi siamo i Weedy ed oggi siamo il nuovo video. Lo vediamo di oggi è un video vlog, perché praticamente cosa è successo? Noi ci siamo appena svegliati, come si può vedere dalle nostre facce bellissime, perché praticamente io sono venuta a casa di Valerio a invaderlo per passare un paio di giorni insieme e lui ha la faccia tipo addomettata. Quindi insomma questo video è totalmente diverso dai soliti video che facciamo, passate una giornata con noi, fateci sapere nei commenti se vi piacciono i video un po' così vlog e niente, direi di iniziare. Allora vi spiego, questo è un slime che ci avete regalato, guarda abbassa voce perché c'è Luisa sopra e fa malissimo se lo si butta addosso. Quindi lo sarò per fare malissimo a Luisa. Lu? Ah, fama lo so, perché sto... Cioè perché sei deficiente e non volevo vedere? Vi spiego la situazione, io e Luisa dovremmo vloggare ma Luisa sta qua col telefono e non vuole fare niente. Andiamo a vloggare? Andiamo. No! E dai! E dai, Luisa! Ciao guys, allora, dato che Luisa non sa giocare, almeno credo, non ci ho mai giocato, adesso fai una partita a ping pong, quindi a voi ve la faremo vedere velocizzata, Luisa buscherà, iniziamo. Insomma direi che non è che siamo tanto portati a schiacciare il pedic- Ehi, a Luisa non trovo che c'è uno spazio, mi si è incazzato. Ehi, a Luisa. Io, ragazzi, non so quanto si sentirà, siamo in bici, qua e lui sta a Luisa, a Luisa, a Luisa, a Luisa, a Luisa, a Luisa e a Luisa. E siamo andando in spiaggia, quindi faremo qualche ripresa molto carina. Vuoi andare? Seguimi. Allora, visto che la spiaggia era tipo super accolata, abbiamo deciso di andare al fiume, che è tipo abbastanza lontano, e siamo anche in mezzo a prima macchine, e quindi ci vediamo tra poco. Non so se vedete, ma ci stanno degli animali stranissimi, enormi qua, non lo so com'è possibile. Ecco, è qualcosa di assurdo, mi sono rimasto. Tanto qua avanti c'è sempre Luisa Pollone che sta soffrendo tantissimo, perché siamo da mezz'ora in bici. Pensavamo fosse più vicino al fiume, invece... Ok, non so come siamo arrivati al fiume. Guardate quanto è bello. Mi sono gestionato. Ed è tipo scontantissimo, mio Dio. Comunque ci siamo arrivati ed è bellissimo, guardate. Ce l'abbiamo fatta, anche se ci abbiamo messo veramente gli animi, perché siamo anche persi in tutto ciò. E se potete vedere lì ci sono anche delle analfe carissime. E che cazzo! Pronto! Ok, allora abbiamo finito di farci i bagni, io mi sono anche cambiato, ci sta un sole assurdo, sto morendo. E' un po' problema a Napoli, perché oggi è compleanno di mio fratello, quindi non lo so, festeggeremo qualcosa. Qualcosa che non si sa che cosa sia. E abbiamo fatto davvero qualcosa di disastroso, guardate la mia faccia, sono un piante stanchissima. Perché sono tipo le 3 del pomeriggio, io ho un sole che fa paura, quindi penso che ora colesterò. Dio! Ok, noi stiamo tornando a Napoli e non mi sono potuta cambiare, quindi è una cosa molto triste. Spero di cambiarmi il fratello possibile. Come si può vedere sono anche bruciata, perché la mia vita è una gioia continua. E qui dietro c'è Vale che... Siamo tornati nella nostra postazione, guardate qua chi c'è! Alla fine della morte è la via di Carlito! Wow! Dobbiamo stare qui, non sappiamo quanto tempo perché mio fratello sta in palestra e dobbiamo aspettare che torna. E siamo qui senza internet, niente aiuto. Quindi ora faremo tanti musicali! Yo! Yo, what's up man? What's up? Ok, stiamo andando, siamo in macchina, io sono tipo volatilizzata in questa macchina magicamente. E stiamo andando alla pesta! Comunque noi stiamo mandando la pizza, siamo arrivati. E Valeria è una persona sempre come al solito disagiata che non sa mangiare la margherita. E niente, vi aggiungeremo più tardi. Ma siamo in Italy o in America perché la Dottor Pepper gira questa voce e siamo un po' americani. Bat! Bat! Wow! Ma è Marcello! È Marcello Burlon! È Marcello! Cosa? Wow! Marcello saluta YouTube Italia! Ciao! Ciao! Uncoraggio! Saluto a tutti i fan dei Weezy, mi raccomando! Ciao ragazzi! Tutti i fan dei Weezy! Saluto! Tutti i Weedini! E con questa ultima clip vediamo la buonanotte perché il vlog è finito. Speriamo davvero tanto che sia stato stato bene prima in questa giornata perché noi siamo divertiti davvero tanto e fateci sapere qui sotto nei commenti se questo tipo di video vi piacciono e qui a tutti i miei altri. E niente, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi al canale in questo pallino e vedete questo video qua! E inoltre se siete arrivati fino a questo punto del video commentatelo con il hashtag vlog! Bye!